Nel 2022 le tre province hanno marcato una crescita molto importante, che non è un rimbalzo tecnico quello che c'è stato nel 2021. È il frutto di un percorso evolutivo e di ristrutturazione del tessuto imprenditoriale, se vogliamo, molto importante all'insegna del maggior dimensionamento delle imprese, di una forma giuridica, quella delle società di capitale, molto importante, crescono molto, si riducono le società di persone e le redditte individuali, che comunque rappresentano ancora la maggior parte del tessuto produttivo, si riducono le filiere e le imprese si posizionano su settori a maggiore capacità di crescita. Per questo abbiamo risultati favorevoli sul mercato del lavoro, ancora caratterizzato da importanti divari rispetto al nord. Ci sono considerate 18 punti percentuali rispetto al tasso di disoccupazione, rispetto alla media nazionale e internamente fra occupazione maschile e femminile. Ci sono dei gap molto importanti. Abbiamo dei risultati molto favorevoli per quanto concerne la filiera costruzioni e immobiliare. Abbiamo risultati importanti anche sui mercati internazionali. Certo, la propensione all'export, ovvero la quota di esportazioni sul prodotto complessivo, non è particolarmente marcata, anzi, suscettibile di miglioramento. Abbiamo dei dati favorevoli per quanto riguarda altri settori del terziario. Vi era la necessità di presentare un primo report delle Camere di Commercio Riunite di Catanzaro, Crotone e Vibo, perché più volte da più parti istituzioni, enti e anche forse politiche ci richiedono dei dati oggettivi del territorio che noi rappresentiamo. E i dati sono quelli che attengono a circa 70.000 imprese che ricadono nella vecchia provincia di Catanzaro, così accorpata dal 3 novembre 2022. Allora, i dati sono emblematici. Intanto vorrei trasmettere immediatamente un dato oltre in modo positivo, che riguarda un più 0,3% e il delta positivo tra natalità e mortalità delle imprese, a fronte di un meno 1,1% che è la media italiana. Quindi in controtendenza alle nostre latitudini c'è una volontà, una voglia di fare impresa. Il reddito pro capite si attesta intorno a 18.500 euro, il valore aggiunto dell'economia sale invece del 62,5% ed è in media con quella del nostro Paese.